...noi per fermarmi. Quello è il collegio di Alpea. Appello, eh? Sono sicura che ti piacerebbe. Wow! Ma io non posso lasciare, Gardelia. Già, sta accadendo tutto così in fretta. Beh, pensaci, domani mattina io dovrò partire con te o senza di te. Ok, ma torniamo indietro adesso. Come si esce da qui? È facile, basta fare un salto. Così.